Guarda un po', guarda un po', guarda un po' cosa c'è là, il pacchettino! Perché con mini pet te la consegnerò direttamente a casa, ma io sono troppo felice. Adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro, quindi se avete qualsiasi tipo di problema, se siete anche in cima al grattacielo, loro e i corriere ve lo mandano anche sul pianerottolo, ok? Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Guarda Ciccio, adesso andiamo ad aprire il tuo pacchettino, qua c'è il pacchettino perfetto. Eccoci qua, statolina, statoletta, allora, 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 crocchettino naturalmente, poi abbiamo tutti i tè, meravigliosi, a loro li piacciono veramente tanto, tanto, tanto. Eccoli qua. E' il pacchettino standard che abbiamo scelto per loro, che praticamente è di due settimane nella casa. Eccolo qua. Qui abbiamo i biscottini, gli altri biscottini. Io ringrazio Mini Pet, naturalmente è un servizio meraviglioso che vi consiglio a tutti. Ricordatevi che sul sito potete fare il profilo personalizzato dei vostri amici pelosi, decidere voi la cadenza su come farvi arrivare i prodotti direttamente a casa. In più c'è un team di veterinari super esperti a disposizione nostra, sempre e comunque, per qualsiasi problematica possa sorgere ai nostri amici pelosi. Quindi, grazie Mini Pet, vi mando un bacino a tutti. Ciao da In Cucina con Frallina. Ciao da In Cucina.